Una risoluzione che sollecita le istituzioni internazionali ad affrontare la crisi umanitaria dei profughi verso l'Europa. L'ha approvata il direttivo regionale dell'Associazione per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, AICRE, riunito a Palazzo Lascaris. L'associazione ha poi rivolto un monito a governo e Parlamento italiano perché il Mediterraneo non diventi il cimitero dell'Europa.